la grande partita i primi venti minuti e di contro noi non abbiamo fatto una prestazione normale ma probabilmente la partita più il ritmo partita che aveva Marsala si è sentito i primi dieci minuti forse anche questo poi l'abbiamo ripresa nel terzo quarto doveva andare via e due bombe alla fine del terzo quarto li hanno riportati lì a un punto sopra o due punti sopra nessun ricordo li abbiamo ripresi se erano riandati li abbiamo ripresi superati e poi questo fa parte del gioco che noi abbiamo rimbalzo lo prendeva la pala e la lancia e segna già c'era capitato con Marsala l'anno scorso che eravamo due punti sopra e un secondo Grillo ci ha segnato da tre da otto metri vuol dire che che questo però non si può recriminare su sull'ultimo tiro perché alla fine noi abbiamo difeso per venti minuti in modo incredibile loro hanno segnato adesso 30 sono a settanta quindi hanno fatti trentuno trentuno punti di cui praticamente otto li hanno fatti in trenta secondi alla fine del terzo quarto e due adesso cioè trenta secondi alla fine del terzo quarto e due adesso cioè hanno fatto otto punti in quaranta secondi via e quindi lasciare questa squadra che comunque ha fatto soffrire il Cus e con questa grande difesa a lasciarla a questi pochi punti l'avamo ripresa lì siamo stati un po' un po' ingolfati in attacco i primi venti minuti ecco perché fare ventisei punti nei primi venti minuti non è non è da noi loro però obiettivamente andavano a una velocità maggiore della nostra nei primi dieci minuti quindi probabilmente anche il ritmo partita che loro avevano che noi avremo dalla prossima in poi adesso tranquillità e chiaramente bisogna dimenticare il canestro di Hazard immediatamente tranquillità sì per forza dico è una cosa normale dimenticare il canestro di di Carlo qui spero non sia difficile per qualcuno io finisce domani l'ho già dimenticato non è quello sì dobbiamo stare tranquilli saremo tranquilli dai alla fine come hai detto tu abbiamo visto quello che che saremo ci ho visto una squadra negli ultimi nei ventitré minuti diciamo con un'anima che si lanciava che si buttava che si aiutava questo ha pagato alla fine all'inizio abbiamo pagato difensivamente la difesa un po' così moscia ci è costato anche diversi falli all'inizio che poi alla fine abbiamo dovuto dipagare abbiamo dovuto sedere Zampo quattro volte un paio di minuti aveva quattro falli Marsella poi scelte quattro falli per cinque falli però fa parte del gioco dai fa parte del gioco al lupo eh se lo maniamo il lupo